Non va niente come vorresti, non va niente come avevi previsto, non è quello che volevi per te. Ci sono problemi in famiglia, al lavoro, con i tuoi figli, con tuo marito o con tua moglie, ma c'è una buona notizia. Gesù veglia su di te. I problemi sembrano infiniti ed insommontabili. Ma lui ti dice, non temere, io sarò con te ogni giorno. Ti aiuterò a combattere le tue battaglie e a vincerle. Anche quando pensi di essere solo contro tutti, non avere paura. Io sono accanto a te, per sostenerti ed aiutarti. Non ti dirò una bugia, facendoti credere che tutto si risolverà in un attimo come per magia. Ma ti dico, abbi fede. Io ti amo e starò per sempre accanto a te e ti aiuterò in tutto quello che farai e che dovrai affrontare. Guardami, Signor, leggi nel mio cuore. Sono un tuo figlio. Ascoltami. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Abba. Abba, Abba. Più solo non sarò, a te mi appoggerò. Sono un tuo figlio. Ascoltami. Sono un tuo figlio. Ascoltami. Abba, Padre. Abba, Abba. Abba. Padre. Abba, Padre. Abba, Abba. Abba, Abba. Per ogni mio dolore. Per ogni mio dolore la pace imboccherò. La pace imboccherò. Abba, 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 Abba. Abba, Padre. Abba, Abba, Abba. Abba, Padre. Abba, Abba. Abba. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti